Un'intera settimana di calcio all'insegna del divertimento con uno staff di allenatori professionisti provenienti dalle principali realtà professionistiche nazionali. Tutto questo sarà la terza edizione di Soccer Italian Style Camp, l'appuntamento che con la collaborazione dell'Audace di Portoferraio si terrà dal lunedì 23 a sabato 28 giugno allo stadio Antonio Lupi. Abbiamo voluto fare questa cosa improntando il lavoro da un punto di vista esclusivamente tecnico, quindi il nostro è un camp diverso rispetto agli altri che vengono organizzati in loco, perché abbiamo voluto mirare a un lavoro qualitativo che andasse a verificare lo stato tecnico-fisico del ragazzo. Il lavoro svolto dai nostri allenatori che poi verrà esaminato e consuntivato grazie all'esperienza e alla collaborazione con queste persone. Tra gli allenatori ci saranno Mirko Mazzantini della Fiorentina e Simone Bombardieri dell'Empoli. La Soccer Italian Style è nata nove anni fa dall'incontro fra me e Simone e si occupa dell'organizzazione di eventi in Italia e nel mondo per quanto riguarda la formazione di allenatori e di giocatori. È il nostro terzo anno che organizziamo un evento qui all'Elba, il primo in collaborazione con la società di Portoferraio. Pensiamo di avere una buona esperienza per poter organizzare un lavoro che sia ottimo per i ragazzi e ottimo per la società. Prima di tutto c'è il divertimento, il divertimento accoppiato al gioco del calcio e ai fondamentali tecnici. In particolare importanza dedichiamo alla coordinazione, abbiamo il preparatore della primavera del Livorno Giacomo Caetoni e quindi fondamentalmente divertimento e tanta tecnica. Le fasce di età interessato sono tutte le fasce che comprendono dai primi calci, quindi da chi ha fatto l'avviamento allo sport fino ad arrivare ai giovanissimi. Poi le specifiche organizzative e tecniche possono rivolgersi direttamente alla nostra segreteria per avere informazioni sul modalità di iscrizione, partecipazione e quant'altro.